Il CNA Imperia parteciperà al MOAC che si svolgerà a Sanremo a partire dal 16 di agosto. Presidente Rizza, in che modo ha contribuito il CNA quest'anno alla 51esima edizione? Allora, con Assapora Mediterranea il CNA è presente al MOAC 2019 con uno spazio espositivo ampio lasciato a disposizione dei nostri associati che rappresentano le eccellenze del nostro territorio. dove attraverso anche dei cuochi verrà data la possibilità a tutti coloro che vorranno di poter assaggiare e vedere in pratica quello che il nostro territorio può offrire al turismo e a tutti quelli che vogliono venirci a visitare. Grazie.